Brezice e in Slovenia la frontiera con la Croazia. 2000 migranti arrivano in un centro di accoglienza. L'esodo di chi fugge dai conflitti e della fame va oltre le capacità del paese fa sapere Ljubljana, che chiederà l'aiuto dell'Unione Europea sotto forma di forze di polizia. Da venerdì scorso, quando l'Ungheria ha chiuso il confine con la Croazia, migliaia di persone hanno cercato una rotta alternativa e in Slovenia sono transitati 19.500 profughi. La Slovenia ha inviato anche l'esercito al confine al fianco dei poliziotti e non esclude di erigere ostacoli fisici. Ljubljana ha chiesto all'Europa anche aiuto finanziario. La Commissione ha fatto notare che ha già messo a sua disposizione 4 milioni di euro per l'emergenza e ha invitato Slovenia e i paesi confinanti a cooperare. Sfiniti arrivano attraverso la cosiddetta frontiera verde, campi e boschi e non i valichi ufficiali, soprattutto siriani, rakeni e afghani, prima che arrivi l'inverno, rendendo ancora più difficile il cammino.